ciao a tutti appassionati di anime manga sono Alex come sempre video seguimi qui su youtube su instagram su twitch e anche in micoteca per stare sempre aggiornati tutti i link come sempre li trovate qui sotto in descrizione oggi andrà a fare la prima impressione di reborn rich edito da planet manga prezzo 14 euro e 90 e webtoon è un manga coreano infatti è ambientato nella corea del sud troviamo il nostro io e noso un manager o meglio quasi manager della compagnia più grande di seul e più grande di tutta la corea quella più importante sembra che si fidino di lui però in realtà parte per un lavoro in moldavia per la sua compagnia per questa per questa compagnia e lo fanno fuori lui si risveglia 30 anni indietro nel corpo di un bambino dojin dojinjin che è il nipote del fondatore di quella sua della sua azienda di quella azienda quindi l'inizio di quella azienda i primi passi di quell'azienda non sa bene perché è successo neanche noi lo sappiamo bene come sia potuto cadere però lo vede come un segno un segnale per ricominciare visto comunque è nata una famiglia ricca e soprattutto scoprire chi l'ha ucciso chi l'ha fatto fuori e se possibile vendicarsi creando una sua compagnia più forte più grande più ricca della sua vecchia della sua vecchia del suo vecchio lavoro e quindi piano piano inizierà a imparare un po' i trucchi della misteria suo nonno lui che è ancora un bambino si dimostra particolarmente intelligente agli occhi suo nonno ovviamente perché ha le conoscenze di un laureato quindi è ovvio e quindi suo nonno non resta particolarmente colpito tant'è che ci avvicina molto di più lui che tutti gli altri suoi parenti stessa cosa sui figli suoi nipoti è lui quello che predilige e quindi sarà lui che immagino penso poi sarà il suo erede però probabilmente ha altri programmi ha programmi molto più particolareggiati mi è piaciuto parecchio devo dire soprattutto perché fa capire un po' di economia di finanza fa capire un po' come creare un'azienda vari investimenti che ci sono ok si c'è il fatto della vendeteci e tutto però almeno il primo volume è stata messa abbastanza in secondo piano per ora il protagonista è solo un bambino quindi pensa a crearsi un suo impero economico crearsi una sua azienda anzi varie aziende e cominciare a muovere i primi passi per soppiantare probabilmente la ditta di suo nonno però mi è piaciuto parecchio ovviamente essendo un mawa è lettura occidentale è tutto a colori come tutti i manwa che fa ma è la panini e mi è piaciuto tra le novità sicuramente di questo mese e gli ultimi due tre mesi devo dire in effetti è sicuramente quella che mi ha convinto di più ha c'è stata una serie non mi ricordo dove però ha fatto una serie direbbero rich quindi è tratto dal webtoon dalla serie anche interessante mi sta piacendo e lo continuerò fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi e mettete like che non vi costa nulla noi ci vediamo al prossimo video